amiche e amici di catanzaro su sun system vi dà appuntamento il 31 dicembre in corso mazzini per il concerto di fine anno per iniziarne uno nuovo tutti insieme per sperare per migliorare per portare avanti questo sud fantastico questa calabria meravigliosa tutti uniti a ballare cantare per la nostra terra le nostre amici e per il futuro che verrà ve lo ricordo su sun system a catanzaro il 31 dicembre fué poi ciat dei voi ahahaha